Buongiorno a tutti ben ritrovati 3 agosto 2015 buon inizio settimana a tutti voi questa è la rassegna stampa occhio giornali che comincia come sempre con il santo del giorno i santi sono tanti nel martiriologio della chiesa cattolica noi vi riportiamo santa lidia per esempio ma è anche san pietro vescovo dove ad anagni nel lazio san pietro vescovo costruì anche la cattedrale ma è anche il primo vescovo di napoli che si chiamava santasprenato oppure san martino eremita il sole è sorto alle 5.57 tramunterà le 20.32 vediamo il tempo il tempo che fa per la giornata di oggi come sempre con le previsioni della protezione civile della regione Marche intanto possiamo dire in questi giorni soprattutto di sera si è respirato un po di più non c'è stata l'afa ma godimento temporaneo perché da oggi da oggi si ritorna con le temperature alte e con l'anticiclone quindi con l'aria della dell'africa dunque oggi 3 agosto abbiamo temperature in aumento cielo sereno poco nuvoloso per domani lo stesso martedì vedete temperature in ulteriore lieve aumento con cielo sereno poco nuvoloso le le previsioni per i prossimi giorni c'è questa nuova espansione dell'alta pressione che garantirà condizioni stabili soleggiate per gran parte della prossima settimana allora andiamo a vedere subito i giornali cominciamo dall'intervista che ha realizzato il resto del carlino al papà di luca varani l'avvocato che ha ucci che ha scusate l'avvocato che ha sfregiato con l'acido lucia annibali dunque il papà il papà di luca varani dice chiesto scusa le ho detto che mi dispiace tanto l'occasione di questo incontro tra il papà di luca e lucia annibali è la cessione è stata la cessione davanti al notaio di tutti i beni del figlio i domiciliari rinnegati al figlio non esiste pericolo di fuga mia figlia non abita più in america è tornata a pesaro allora francesco varani è come dicevo il padre di luca 38 anni avvocato pesarese condannato in primo e secondo grado a 20 anni di reclusione per l'acido in faccia la sua ex amante e per il tentato omicidio con il gas della cucina dopo due anni e mezzo dai fatti ho stretto la mano a lucia raccontale ho rinnovato la mia vicinanza il mio dolore per quello che le è successo poi c'è tutta l'intervista realizzata appunto dal resto del carlino poi la morte invece la morte annunciata per il figlio sottratto quell'uomo che si è dato fuoco davanti al tribunale dei minori di Ancona non ce l'ha fatta è morto francesco di leo è sopravvissuto appena 36 ore con ostioni in tutto il corpo si era visto togliere il bambino dal tribunale i post su facebook poco prima di darsi fuoco oggi l'addio e il funerale alle 16 e 30 nella cappella interna dell'obitorio di Torrette di Ancona poi i carabinieri invece che cercano nelle telecamere di Sant'Angelo Invado le immagini soprattutto lungo il tragitto della Ford l'auto utilizzata da Igli Meta per raggiungere la chiesetta di San Martino in Selva Nera dunque è stato rifatto tutto il tragitto appunto della Ford di Igli Meta dal centro di Sant'Angelo Invado fino a questa chiesetta trovate alcune immagini dal resto del carlino di Fano si draghi il porto o lo farò io sono le parole del vescovo della diocesi Armando Trasarti pronunciate ieri alla festa del mare sotto invece da saltare alla scienza abbinata ai sapori l'ultima frontiera del godimento rassegna di successo alla vita del balì interventi che hanno messo a confronto arte e tecnologie in questa fotografia il carlino pubblica la foto di Alighiero Omiccioli e di qua invece a destra il pendolo di Foucault e questa è la pagina di Fano e Urbino ma quella di Pesaro invece si occupa della grande manifestazione ormai visto il successo di pubblico del Paglio dei Braceri una quinta edizione, sono bastati cinque anni per far diventare questa idea che è nata dal nulla, una grande idea che ha richiamato a Pesaro tantissime persone ovviamente tutti i quartieri sono accorsi e hanno partecipato a questo palio la quinta edizione è stata assegnata dopo una sfida all'ultimo metro ecco sotto un momento di questo palio vedete i braceri che sono queste scodelle, queste padelle pesantissime tra l'altro portate dai concorrenti e tutta la gente che era sotto la rocca ad assistere a questa finale a Pesaro allora andiamo adesso invece a leggere i giornali no c'è la pagina di sport ma la leggiamo dopo allora andiamo adesso sul Corriere Adriatico anche qui la pagina di Pesaro lo spettacolo dell'orgoglio pesarese folla alla rocca per il palio dei braceri in finale Pantano, Treponti, Arzilla e Tombaccia sotto ancora alcuni momenti di questa importante iniziativa momento di commozione quando i giovani hanno ricordato Gloria Rastelletti e Giacomo Venturini sono due persone pesaresi che purtroppo non ci sono più cancellata la Rems a Fossombrone sempre dal Corriere l'ultima scelta del direttore Capalbo Maria Capalbo la struttura si farà a Monte Grimano poi sotto sempre da Pesaro concerto di Rosi Velasco per i suoi fan è la Guerriera e sopra invece aiutare i giovani a diventare imprenditori progetto Tin, la provincia di Pesaro promuove 140 strumenti tecnologici per diffondere la cultura d'impresa la pagina di Fano invece del Corriere festival festival aria dedicato alla casa grandi polemiche per le manifestazioni soppresse ma c'è chi punta ancora su fantasia e turismo in questa immagine gli direttori di questa nuova manifestazione Giampiero Pedini da sinistra Corafattori e Fabio Signoretti Notata Longa record di atleti con la festa del mare c'è stata anche la Notata Longa un tutto esaurito di partecipanti per questa edizione circa 560 sono stati gli iscritti a questa 44esima edizione della Notata Longa il principale appuntamento natatorio cittadino organizzato dall'associazione Fano in fortuna e nuoto nella giornata della festa del mare che ormai ha assunto un'importante rilevanza a carattere nazionale 500 passatleti non sono pochi, sono davvero tanti cambia il direttivo dei commercianti del centro storico di Fano questa sera gli aderenti al comitato eleggeranno i nuovi vertici dopo le dimissioni in massa del precedente gruppo in questa immagine Filippo Bacchiocchi il presidente uscente dunque allora da Senigallia una pagina nutrita di cronaca intanto i furti ma questo ormai è quasi routine colpo in appartamento i ladri in fuga con i gioielli la polizia raccomanda di prestare attenzione soprattutto in questi giorni di grande afflusso di gente perché c'è il Summer Jamboree a Senigallia che è un appuntamento anche qui strepitoso davvero una bellissima idea siamo circondati da gente, da menti geniali coma etilico e overdose movida da incubo le forze dell'ordine hanno dovuto sedare alcune risse un ragazzo è stato segnalato per possesso di hashish liti tra automobilisti e parcheggiatori abusivi nel piazzale Morandi e in piazza Garibaldi poi il weekend invece che è stato rovinato dalle alghe ma anche e soprattutto dal maltempo anche se ieri non è piovuto ma insomma c'erano tante nuvole il sole non si è visto quasi per niente quindi però si stava bene al mare lo stesso auto e furgone a fuoco nella notte trovate vicino bottiglie di benzina si segue la pista dolosa il proprietario nessuna minaccia un'alfa 159 che appunto è stata distrutta dalle fiamme a Vallone allora prima dello sport perché c'è stata la Team Cup alla quale ha partecipato anche il Fano Palio dei Braceri siamo sul messaggero Palio dei Braceri Arzilla buona la prima dopo aver mancato il successo per un soffio nel 2014 la contrada si prende la rivincita sulla tombaccia è giallo verde il trionfo della quinta edizione il quartiere conquista anche il premio per i migliori addobbi poi vediamo anche qui sotto Maria Sacchi che è la più bella tra le belle già Miss Pantano è stata eletta dalla giuria anche Miss Palio l'applauso più lungo invece per chi non c'è più lo dicevamo insomma all'inizio l'apertura delle celebrazioni sono stati ricordati Gloria Rastelletti che ha avuto un incidente insieme alla sorella in Australia la sorella si è salvata è stata operata abbiamo già detto per fortuna tutto bene purtroppo Gloria non ce l'ha fatta e Saverio Mancini e poi Giacomo Venturini sotto sempre sul messaggero di Pesaro l'impasse sulla spiaggia Percani in guaia la giunta per domani convocata una maxi commissione ma ormai il piano sarà approvato solo in autunno dunque a stagione ormai finita sulla pagina di Pesaro e provincia invece l'alberghiero l'istituto alberghiero di Pesaro che perde pezzi ma è stato escluso dai fondi il piano di edilizia scolastica trascura Pesaro risorse solo per 7 interventi su 42 previsti nelle Marche a Santa Marta la situazione è critica rischia di non aprire anche al Genga problemi di infiltrazioni e servono dunque delle risposte poi sotto alcune notizie da Fano la perdita della Saipem un danno incalcolabile parla Simona Ricci della CGL sindacati preoccupati la segretaria dice occorre una strategia condivisa poi sempre da Fano ospedali disparità di trattamento fra gli ospedali di Fano e Pesaro a discapito dell'uno e a vantaggio dell'altro sta creando malumori nella maggioranza locale così argomenta Gianluca Cespuglio della lista Fano dei quartieri ladri di bicicletta scatenati e Agostini si sfoga rubata quarta bicicletta chiusa nel garage come ci si può difendere mi sento impotente e stupido e quanto l'amaro sfogo consegnato ai social network che dal dottor Massimo Agostini dirigente del servizio di igiene e prevenzione Asur Marche 3 il medico che abita in centro storico si è accorto del furto l'altro giorno e ha sporto denuncia ai carabinieri poi c'è a Urbania il ponte che scricchiola però ci sono dubbi su questo ponte il legno scricchiola collega la ciclabile al barco la struttura è in acciaio ma le tavole le tavole preoccupano Assaltara invece abbatte un segnale e finisce nella corsia opposta sulla Fano Grosseto appesero controlli per la guida in stato di ebrezza una serie di notizie messe insieme in questo articolo che potrete leggere sul quotidiano romano l'inserto ovviamente dedicato alla provincia poi chiudiamo con la pagina di Ancona torcia umana in tribunale purtroppo è morto il bodyguard di 43 anni che temeva di perdere il figlio di Otto devastato dalle fiamme un'agonia di 36 ore venerdì da Pesaro in scooter poi il gesto in via Cavorchi addio amore di papà il suo ultimo messaggio su Facebook e come abbiamo già detto l'addio a questo 43 anni sfortunato verrà dato nel pomeriggio nella cappella dell'ospedale di Torrette di Ancona chiudiamo con il Fano il calcio il Fano a Salò non può fare di più il risultato di questa di questa partita è Feralpi-Salò 5 Fano 1 quindi abbiamo perso 5-1 il Fano ci mette l'alma parafrasando un po' l'anima insomma l'anima l'alma ma non basta la Feralpi-Salò scrive Passerini del Corriere la Feralpi vince 5-1 ed elimina e granata il primo turno di Team Cup tutto secondo copione all'ino Turina che è lo stadio di Salò dove la squadra Bresciana di Lega Pro allenata da Michele Serena forte di 10 giorni in più di preparazione riesce ad avere la meglio su un fano combattivo e pieno di idee ma sicuramente inferiore a livello tecnico rispetto appunto alla squadra avversaria ed è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi grazie per la vostra cortese e attenzione vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con il nostro telegiornale Occhio alla notizia arrivederci e vi do appuntamento